Vai! Vaiiii! Mi fai ridere però, non ha fatto nulla di che! Ha fatto lì! Guardiamo i quattro occhi, mi sembra! Vai Fabrizio! Questa è la mano e questo è lo sfizio! Anzi lo sfizio! Prosciutto e melon! Questo è da prosciutto e melon! Boh! E che l'era questa? E che fa? L'avevo detto che si scialavano quando ce le riprese! Questa è la giac... Ehm... Salti a voi vengano sempre! Quando sei da solo non c'è nessuno che vi guarda! Fabra, diglielo! No! Il periodo di ieri mi hai detto ho fatto un 360... Non c'era nessuno! No no, c'era anch'io! Ciao Giovanni!